Mi chiamo Antonio Focco, ho 19 anni, vengo da Cariati, provincia di Cosenza. Ho cominciato con i kart quando avevo 6 anni. La mia passione è diventata una professione quando ho cominciato a correre in macchina nel 2013 perché sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy. Quest'anno il mio team è qui a Londra, quindi sono spesso qui a fare delle sessioni di simulatore o dei briefing con il team. Il simulatore è molto diverso, non ha il feeling dell'aria che ti arriva in faccia, della forza giri infrenata. Questo simulatore è un GT3 che riproduce la Ferrari 458 Italia che viene usata nella 24 ore di spa. Questa gara sarà il 25 luglio 2015 e la gara potete seguirla in streaming sul sito Kaspersky Motorsport. Ci sarà un concorso il cui vincitore scenderà in pista a Valencia. Ciao a tutti da Antonio Fuoco.